Musica Grande successo non poteva essere altrimenti anche nella tappa pescaresi al Teatro Circus tutto esaurito per questo show divertentissimo Anche noi, anche noi, tutti esauriti, tutti esauriti, una grande soddisfazione, un pubblico straordinario l'Abruzzo non mi ha mai deluso e quindi sono contento, una bella serata e il pubblico l'ho visto anche bello caloroso Fra l'altro stiamo ormai entrando nelle battute finali di questo tour del non so che fare prima perché poi ci sarà la tappa di Avezzano a chiudere questa trasferta abruzzese Sì, manca Avezzano e amici, anzi vi aspetto ad Avezzano perché è un bellissimo sabato, sabato 20 aprile Manca Roma, Roma giovedì e poi abbiamo terminato Abbiamo fatto scherzando e ridendo, non era previsto un tour invernale quest'anno Poi è nata una data, poi l'altra, poi l'altra Alla fine abbiamo portato via oltre 15 date con tutti i soldati Mestre, Alessandria, Bologna, Torino, Milano, Matera, Taranto, Marsala Insomma veramente dal sud al nord e quindi ringrazio, ringrazio gli amici che ci seguono sui social perché alla fine se ci conoscono è grazie ai social e grazie a Youtube, a Facebook Continuate a seguirci perché non vi deludiamo e ormai le giornate iniziano ad essere calde quindi ci vediamo in piazza mi raccomando Fra l'altro questo è uno spettacolo, diamo magari qualche anticipazione per chi non ha ancora visto che ha come tema principale il rapporto di coppia Anche, il rapporto di coppia si parla tanto sulla barzelletta ma mai come in questo spettacolo c'è un momento proprio teatrale si vede la coppia, che succede nel rapporto di coppia appena uno si sposa appena uno si sposa, amore qua, amore là poi dopo 5 anni qualcosa cambia dopo 10, dopo 15 anni immagino un po' tu e tutto questo lo viviamo sul palco e ci divertiamo tantissimo perché poi improvvisiamo Quando penseremo alle novità per il Moodoo? Che te ne frega? Vogliamo sapere? No, sto scherzando Le novità ci sono, ci stiamo già girando i nuovi episodi quindi per la tv sulla quale andiamo in onda e ovviamente anche per chi ci segue sui social tutto partirà però nel mese di novembre-dicembre grandi novità perché tra le location abbiamo addirittura siamo stati già a dicembre a Watamu in Africa, in Kenya e quindi abbiamo girato con i bambini di colore una cosa straordinaria, abbiamo portato a loro un sorriso delle location sempre molto belle, ci sarà una settimana dedicata solo alla nave con degli episodi, un po' la Colombo, ti ricordi che uno vede l'episodio di 24 minuti poi il giorno dopo cambia episodio con questo comandante che sono io sulla nave e ne vedremo di tutti i colori Grazie